Sesso a gogò. Sabina Cuccaro è una bella, brava giornalista del Fatto Quotidiano e ha scritto sul Fatto Quotidiano un bellissimo articolo dedicato al sesso a gogò scrivendo che oggi tutti fanno sesso con tutti, ce n'è anche troppo di sesso, ce n'è anche troppo di sesso, capito? Ce n'è anche troppo di sesso e ci dice che dopo il sesso c'è un po' di tristezza, capito? c'è un po' di tristezza dopo il sesso, c'è un po' di tristezza e allora dice ma è proprio questo che volevamo e questa è la conquista, perché gli scienziati parlo di post-sex, blues, dopo il sesso triste, blues, blues, la tristezza, blues, blues il color blu sarebbe il colore della tristezza e poi la tristezza, la manicoria, la depressione prende il nome del blues, blues come i canti dei poveri schiavi che venivano portati dall'Africa, venivano portati nelle lontane Americhe allora, cara, cara, bella, cara, bella, Sabina Cuccaro, o Sabina Cuccaro, guarda carati, gli archivi romani dicevano che nomen, omen, nomen est, omen, il nome c'è il destino, è Cuccaro, Cuccaro, Cuccare, 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 bellissimo il tuo cognome è Cuccaro, 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 cuccare, 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 è questo che volevamo, è questo che volevamo e che cosa volevamo, Sabina, che cosa volevamo, e che cosa volevamo, cara, Sabina Cuccaro, Cuccaro e il resto è il fatto che già gli antichi dicevano che, in latino lo dicevano, non in inglese, dicevano post coitum, omne, animal, triste, animal però qua è inteso come essere umano, cioè dopo il coito ogni essere umano è triste, e se vogliamo sapere per quale motivo dopo il coito ogni animale è triste e bisogna leggere quest'opera, carissima, bella, brava, Sabina Cuccaro, Cuccaro, quest'opera From Matriarchi to Patriarchi, in quest'opera è spiegato, ah, è anche in lingua italiana perché prima di apparire in lingua inglese è apparsa in lingua italiana, ora in lingua inglese sta tutto il mondo, in quest'opera, From Matriarchi to Patriarchi, è spiegato perché post coitum, omne, animal, triste, è spiegato, capito? è spiegato, e gli scienziati invece scrivono che post sex blues, post sex blues, ok Sabina sei tanto bella Sabina, anche tu Sabina, Sabina Cuccaro Cuccaro ne fai anche tu, tanto tanto di sesso, eh, a cara Sabina, va bene cara, però se leggerai questa mia opera, cara Sabina saprai perché, dopo il sesso, siamo tutti tristi, siamo tutti tristi, un po' tristi e malinconici Ciao Sabina, a te e a tutti voi, tanti cari, ah, ah, l'articolo di Sabina Cuccaro Cuccaro ve lo metto come l'ignorizzato di questo video, così ciascuno di voi potrà fare le proprie personali deduzioni, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni